Franzone, bocciata ieri all'Assemblea regionale siciliana il ridisegnamento dei confini dell'ex provincia, i comitati non ci stanno, chiaramente non accettate questa votazione peraltro con voto segreto, adesso quali saranno preso atto della situazione le prossime strategie, se c'è ancora secondo voi una speranza? Diciamo che non siamo per nulla stupiti di quello che fa l'Assemblea regionale, ormai credo che non solo noi come comitati ma tutti i cittadini e non solo Gelesi ma di tutta la Sicilia abbiano capito cosa fanno i parlamentari all'interno del Parlamento regionale, di certo non più gli interessi dei cittadini siciliani. Bene, dopo una scelta avvenuta attraverso due deliberi consigliari, un referendum, il Parlamento regionale si arroghe il diritto di poter non far passare gli esami, appunto, i disegni di leggi di variazione territoriale. Ovviamente questa non è la fine, ce l'aspettavamo, eravamo preparati a questo, di fatto avevamo diffidato sia il Presidente della Regione che l'assessore regionale alle autonomie locali e alla Landieri a non indire le elezioni perché noi già il sentore di quello che stavano cercando di combinare in Assemblea regionale l'avevamo già. Bene, per noi non è cambiato assolutamente nulla, ci preparavamo ad imbugnare le elezioni dell'ente intermedio per bloccare appunto questa riforma e far sì che il passaggio di Gera Piazza Almerina a Niscemi avvenga nel più breve tempo possibile e questo continueremo a fare. Siamo sulla retta via, come si suol dire. Mi sento di poter dire ai nostri concittadini, ma anche ai cittadini di Niscemi e Piazza Almerina che, per fare un esempio magari banale, abbiamo per la prima volta il coltello da parte del manico. Questa è una scaramuccia fatta dal Parlamento regionale per cercare di intimidire e scoraggiare le popolazioni di questo territorio. Non hanno capito con chi hanno a che fare. Siamo gelesi, siamo piazzesi, siamo niscemesi e siamo soprattutto ben motivati. Il ricorso al TAR quali motivazioni avrà, su quali argomenti sarà fondato? Sul fatto che nel momento in cui loro indicano le elezioni i territori non sono quelli previsti dalla legge 15 e quindi non è stato applicato l'articolo 44 della legge 15. A quel punto salta l'intero programma del Parlamento regionale, ovvero quello di togliere i commissari e indire le elezioni. E quindi ci dispiace questo perché questo provocherà disagi alla gestione dei liberi consorsi di città metropolitane. Ma la colpa non è nostra, la colpa va ricercata nella mancanza di democraticità dei parlamentari siciliani.